aggressioni al pronto soccorso rabbia e sconforto dei sanitari compra vendita immobili a pesaro arriva orienta casa teatro presentato il cartellone di prosa 2022 a 93 anni la prima mostra personale di carlo pagnini buona serata buona serata a voi telespettatrice telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre questa è rossini news questo è il nostro telegiornale che in questa serata di venerdì 5 novembre apriamo con una notizia che interseca sanità cronaca e tutela dei lavoratori mercoledì sera si è infatti verificato un grave episodio di aggressione con calci pugni addirittura sputi a operatori sanitari del pronto soccorso dell'ospedale san salvatore un episodio censurabile ma che solo l'ultimo di una lista di fatti che mostra quanto questa categoria sia scoperta e vulnerabile il caso di pesaro ha tra l'altro creato una risonanza nazionale tale da scatenare questa mattina un flash mob che andato oltre i confini regionali con i lavoratori del pronto soccorso che per un paio di minuti hanno sospeso le loro mansioni in segno di protesta pronto soccorso di pesaro a meno di 48 ore da un altro episodio l'ennesimo di violenza scriteriata contro niente meno che operatori del pronto soccorso medici e infermieri mercoledì sera un altro episodio di aggressione un 23enne che ha dato inescandescenze colpendo con pugni calci addirittura sputi e operatori sanitari operatori sanitari che hanno detto basta e oggi a pesaro hanno indetto un sit in di protesta di richiesta di attenzione per sollecitare appunto l'attenzione politica e non solo su una problematica seria di mancanza di protezione di mancanza di personale in come dice un collega noi come lavorassimo in strada non abbiamo porte chiuse quindi accogliamo tutti e di tutto quindi può capitare anche come è capitato l'altra sera che un paziente in stato di alterazione per abuso di sostanze se la prenda con con gli operatori è una cosa molto triste molto brutta però paradossalmente questa è solo la punta dell'iceberg perché questo è un rischio che noi abbiamo scelto facendo questo lavoro quello che non abbiamo scelto è di vicariare le mancanze di tutto il resto del sistema sanitario perché bisogna dire che i servizi sul territorio sono stati grandemente ridotti sono state tolte dalle guardie mediche è stata tolta la guardia turistica ci sono dei problemi per i posti di posti ricovero nelle strutture del territorio e questo ricade sull'ospedale il problema dell'ospedale che ci sono pochi posti letto a caso del covid e questo ricade sul pronto soccorso noi siamo in coda la catena alimentare quindi tutti i problemi del sistema sanitario nazionale sono diventano un problema grosso nostro e noi siamo chiamati a risolverli e finché ce la facciamo lo facciamo con tutto il cuore ma siamo arrivati a un punto nel quale non ce la facciamo più non ce la facciamo più abbiamo poche persone ancora disposte a fare questo lavoro e questo lo dico comprendendoli benissimo siamo in carenza insomma di personale questo non è una novità non si trovano medici i medici che ci stanno insomma hanno anche la possibilità di andare in pensione insomma per cui praticamente le carenze sono sempre sempre maggiori abbiamo bisogno di più sicurezza quello che chiediamo innanzitutto più un presidio un presidio di sicurezza all'interno degli ospedali chiaramente fisico H24 e in più abbiamo bisogno anche di più personale perché chiaramente abbiamo una situazione di personale veramente ridotta all'osso un sit-in di protesta al quale ha solidarizzato anche l'assessore regionale alla sanità Filippo Salta Martini venuto qui alle 12 rispetto all'orario programmato delle 10 dunque è stato spostato questo sit-in di protesta ma comunque ha voluto fare sentire anche Salta Martini la vicinanza a un settore davvero in situazione problematica il tema è che l'accesso avviene con codici bianchi e codici verdi di persone che accedono al pronto soccorso anche per problemi ripeto sociali hanno avuto accesso qui anche persone per un banale litigi di condominio il che significa che il pronto soccorso non può essere la parancelata in mani di una società persone che accedono al pronto soccorso per disturbi alimentari oppure persone che accedono al pronto soccorso per in conseguenza di stati d'ansia o di depressione E proprio questa mattina al pronto soccorso di Pesaro c'è stato spazio anche per alcune riflessioni su questa scesa di contagi e ricoveri da Covid-19 con cui è iniziato il mese di novembre nella regione Marche Terapia intensiva al 10% di occupazione superata la soglia dei 50 ricoveri settimanali ogni 100.000 abitanti numeri e percentuali che suggeriscono come nelle Marche la pressione dei contagi da Covid torna a farsi sentire con un'ascesa che fra gli addetti ai lavori fa pronunciare l'inquietante spauracchio della quarta ondata Siamo lontani dal livello d'allerta per chi ha vissuto le ore più buie della pandemia ma il polso delle reanimazioni mostra una sensibile differenza fra come è iniziato ottobre e come è cominciato novembre In situazione Marche Nord abbiamo 11 pazienti ricoverati in terapia intensiva tutti con pulmonite Covid intubati e quindi i numeri sono in lieve crescita ancora per l'animazione la crescita è lieve preoccupa la situazione generale la subintensiva che aumenta di numero in genere l'aumento dei contagi abbiamo due vaccinati nove non vaccinati quindi la gran parte delle persone persone non vaccinate di età che va dai 45 ai 70 anni Per l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini in visita questa mattina all'ospedale San Salvatore di Pesaro lo spettro della quarta ondata si combatte spingendo ulteriormente sulla campagna vaccinale È chiaro che dobbiamo incentivare i percorsi di aumento delle vaccinazioni e naturalmente in questa direzione anche stamani ho parlato con il generale Figliuolo affinché siano lasciati da parte del governo i 65 medici che servono per le vaccinazioni Il tema è un tema piuttosto importante da cittadini attivi nel senso che io credo che i vaccini siano la risposta efficace al Covid e quindi dobbiamo proseguire con la campagna di vaccinazione Cambiamo argomento e ci occupiamo ora del Tribunale di Pesaro che mercoledì ha ricevuto la visita di tecnici ministeriali ai quali compete la manutenzione ordinaria e straordinaria Le verifiche sulla precaria stabilità della parete della struttura per la quale dal 7 ottobre è stata predisposta la chiusura al traffico di via San Decenzio ha dunque pianificato una serie di lavori in più step Secondo i tecnici ministeriali è prevista una prima parte di interventi che dovrebbe permettere la riapertura della strada al traffico entro fine novembre mentre a gennaio si procederà con un intervento radicale sulle facciate Inoltrarsi nel mercato immobiliare rischia di essere un terreno davvero spigoloso per i tanti cittadini pesaresi alle prese con compravendite immobiliari Ecco allora che lo sportello in forma servizi di Pesaro dal 18 novembre aggiunge un altro tassello ai suoi servizi Partirà infatti Orienta Casa un nuovo servizio con consulenze gratuite di commercialisti, notai, consulenti finanziari e agenti immobiliari Sarà un vero e proprio nuovo servizio Un servizio completamente gratuito per il cittadino in un luogo centrale qua in Piazza del Popolo Come sapete ormai sono diversi mesi che il Comune ha spostato lo sportello in forma servizi da Largomamiani a Piazza del Popolo Lo sportello in forma servizi è il primo punto di incontro tra il cittadino e l'amministrazione E in questo sportello sarà realizzato grazie alla disponibilità e alla collaborazione da parte di professionisti che hanno subito aderito al protocollo d'intesa Ci saranno quindi notai, ci saranno commercialisti, ci saranno la FIAIP che sono gli agenti immobiliari per dare un servizio che ruota intorno al mondo della casa La casa è un bene primario, un bene importantissimo su cui in questo momento si sono accesi in particolar modo i riflettori anche perché è ripreso un certo dinamismo nella compravendita degli immobili, nella locazione in quelli che sono anche gli interventi legati ai bonus e questo sportello servirà a dare tutte le informazioni da professionisti, commercialisti e notai e tutti coloro che possono preparare il cittadino nel momento in cui si appresta ad acquistare un immobile quindi tutte le informazioni che ruota intorno sia alla compravendita, alla locazione, all'accesso al credito e anche ai bonus quindi è un servizio completamente gratuito, offerto da questi professionisti che si renderanno disponibili due giovedì al mese, un giovedì ogni 14 giorni in orario pomeridiano Diciamo uno strumento importante per il cittadino per orientarsi in un mercato che a volte è confusionario tra le leggi del 110, successioni, altre normative diciamo che è uno strumento secondo me importante che vede più professionisti insieme dove diamo un servizio al cittadino di consulenza gratuita che secondo me è una cosa molto importante in questo momento e in particolare noi teniamo a creare una specie di cultura della prevenzione giuridica nel senso che il cittadino è opportuno che sia informato sulle problematiche legali in questo caso legate all'acquisto di un immobile il più presto possibile in modo che possa affrontare un acquisto nel modo più informato possibile perché per esercitare la propria libertà di acquistare deve essere prima di tutto informato e noi vogliamo anche evitare che queste informazioni in un certo senso anche se è una goccia nel mare vadano ricercate su luoghi anonimi e formali come internet e cose di questo genere quindi anche un servizio alla cittadinanza festo festo per così dire i passatelli al pesce sono il primo piatto pesarese a meritarsi il marchio Deco a Decidolo è stata la commissione Deco di Pesaro che ieri si è riunita per proclamare il primo piatto della città che dunque si fregia del marchio di denominazione comunale questo significa che i passatelli al pesce saranno sempre riconoscibili grazie al logo identificativo rilasciato dal comune che attesta l'origine del prodotto e la sua produzione sarà dunque un logo riprodotto sugli imballaggi, sulle confezioni, sui materiali pubblicitari e sui menu diventando dunque un valore aggiunto anche per i visitatori della città le avete viste recentemente ospiti negli studi di Rossini TV parliamo di Beatrice Terenzi e Elisabetta Ferri che da giornaliste pesaresi sono divenute dieci anni fa le creatrici della nazionale italiana Basket Sword che lo scorso ottobre si è freggiata del titolo di campione d'Europa oggi la Terenzi e la Ferri sono state premiate con il plauso della città consegnato dal comune di Pesaro per i loro risultati di sport e inclusione sociale ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 la foto che vi stiamo mostrando ora ci è stata inviata da un nostro telespettatore e si riferisce al percorso pedonale che sul lungomare di Pesaro conduce dal moletto alla spiaggia di Ponente un percorso che come vedete è stato interrotto e il motivo dell'interruzione è il danneggiamento di alcune doghe e sostegni logorati sotto i colpi dell'ultima mareggiata il comune di Pesaro annuncia che ha già previsto un piano di riparazione per mettere in sicurezza il passaggio nemmeno il tempo di concludere la stagione teatrale 2021 che è ancora in corso di svolgimento in queste settimane che l'AMAT ha già annunciato il cartellone della prosa 2022 saranno sei gli spettacoli con tante repliche tutte al teatro sperimentale fra gennaio e maggio come ci spiegano il direttore di AMAT Gilberto Santini e l'assessore alla cultura Daniele Vimini avevamo annunciato appunto una stagione di quattro date per il 2021 che si concluderà con dicembre in questi giorni in successo straordinario di Christicchi in attesa di Eugenio Allegri con 900 per chiudere il 2021 e poi una stagione 2022 che in realtà è una stagione diciamo inverno-primavera 2022 sperando poi ritornare tranquillamente al teatro Rossini per una stagione compiuta 22-23 ma diciamo una stagione che prende vita da gennaio a maggio con sei appuntamenti, sei grandissimi spettacoli con anche una novità importante ovvero spettacoli dal martedì alla domenica quindi sei spettacoli, sei recite è un dato veramente importante quindi 3.000 posti a disposizione sei appuntamenti, sei recite, sei sguardi diversi al teatro italiano iniziamo e chiudiamo con due omaggi ai classici ci piace questo presente ricordato in qualche modo che cerca in questa incertezza del presente qualche riferimento così come fa Emilio Solfrizzi nel suo Malato Immaginario l'ultimo grande testo di Molière con la regia di Guglielmo Ferro e così come fa, devo dire, con una straordinaria capacità inventiva di utilizzo dei linguaggi teatrali Ferdinando Bruni nell'Edipo Re che chiude la stagione che si avvale anche di fantastici costumi di Antonio Marras che sono davvero parte della drammaturgia del testo e in mezzo a tante storie, tanto presente devo dire dopo questo presente ricordato invece tanto presente Giusto alla fine del mondo uno spettacolo che ci ha molto colpito e abbiamo voluto fortemente a Pesaro perché racconta vicende di una famiglia insomma che assomiglia in molti casi anche alla nostra con una grande Anna Bonaiuto nel ruolo appunto della mamma di questa grande famiglia un bellissimo approdo a Pesaro è quello del Silenzio Grande che vede la coppiata di Maurizio De Giovanni e Alessandro Gasman scrittura e regia la coppia che insomma ha dato anche vita al grande successo dei Bastardi di Pisto Falcone e in questo caso appunto torna anche da quella serie il protagonista Massimiliano Gallo con Stefania Rocca coprotagonista è un pesarese, devo dire che in un bellissimo ruolo il figlio è interpretato da Jacopo Sorbini quindi siamo contenti di riportare un talento di Pesaro a casa desterà sicuramente curiosità la presenza di un nome come Martina Colombari che aveva incuriosito e poi invece molto convinto quando lo spettacolo è andato in scena l'abbiamo visto a Milano con grande soddisfazione Montagne Russe è il suo esordio commedia francese di grande intelligenza di grande fascino che attraversa appunto come una montagna russa le possibilità della vita ultimi ma non ultime naturalmente due presenze di grande fascino e di grande storia e di tradizione come Isa Daniele e Giuliana De Sio le signorine come dice il titolo dello spettacolo che ospitiamo devo dire l'occasione di vedere attraverso divertimento e tanta commozione l'arte del teatro, l'arte della recitazione è distillata come davvero capita raramente quindi una bella avventura da vivere integralmente in questo spazio come diceva giustamente l'assessore Vimini che sta rivelando davvero una grande capacità di concentrare le emozioni e farle arrivare dirette in platea incredibile ma vero la creatività poliedrica di Carlo Pagnini a 93 anni non aveva ancora mai avuto una mostra dedicata ai propri lavori ora è arrivata si chiama Iscaraboc e sarà inaugurata domani ai musei civici sempre più meravigliato non lo so proprio come farò a non svegliarmi da questa sorpresa da questo sogno sorpresa, sogno e meraviglia sono questi i sentimenti del 93enne Carlo Pagnini che dopo quasi un secolo trascorso anima e corpo nelle viscere della cultura del linguaggio e dell'immaginario pesarese si emoziona alla vigilia della sua prima mostra personale Iscaraboc è un viaggio nella mente creativa di Pagnini che per un mese accompagnerà i visitatori dei musei civici un palazzo mosca in cui la mostra verrà inaugurata alle 18 di sabato 6 novembre e si terrà fino all'8 dicembre Iscaraboc di Carlo Pagnini nascono da un'idea del sindaco che ha visto questo primo cofanetto realizzato da Carlo per familiari e amici e che il comune ha voluto ristampare in edizione limitata per questo evento Iscaraboc sono dei disegni realizzati dall'artista tra il 1969 e il 71 lasciati come io definisco lì a maturare per poi riprenderli in tempi più odierni e modificarli al computer lasciando quindi questo sapore molto fresco e contemporaneo e stando a cavallo tra passato e presente Pagnini ha spesso amato dire di non essere un attore né un poeta né uno scultore né un disegnatore non sono sufficientemente informato o colto però in qualche modo ho fatto tutto questo l'intento di questa mostra è quello di presentare la figura di Carlo Pagnini spesso conosciuta al pubblico come poeta dialettale ma soprattutto come artista e uomo a 360 gradi quindi in questa mostra troveremo anche tutti i suoi disegni di tutti i suoi personaggi perché Carlo diciamo che oltre a scrivere dei propri personaggi per entrarci aveva questa necessità di disegnarli devo soltanto ringraziare ringraziare Pesaro la città gli esecutori materiali di questa mostra e chi l'ha concessa insomma non lo so ho veramente l'idea di essere fuori dal mondo inizia domani sabato 6 novembre alle 13.30 un nuovo spazio di Rossini TV realizzato in collaborazione col comune di Pesaro si chiama WePesaro TV e si tratta di un format televisivo della durata di un'ora in cui verranno presentati i fatti salienti della settimana nel primo appuntamento di domani a presentare iniziative progetti e incontri svolti dall'amministrazione comunale sarà l'assessore al benessere Mila della Dora e inizia proprio questa sera un weekend ricchissimo di sport dopo la delusione di Champions League è di nuovo in campo alle 20 l'Ital Service al Palafiera dove se la vedrà con Eboli alla stessa ora ma di sabato cioè di domani gioca in anticipo la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che sarà in trasferta sul complicatissimo campo della Virtus Bologna molto stuzzicante invece l'impegno dominicale della Vis Pesaro che alle 14.30 al Benelli ospiterà l'imbattuta capolista reggiana la Vis reduce da sette risultati utili sarà supportata da un numeroso pubblico pesarese come testimoniato dai dati di vendita della giornata bianco-rossa torna in casa anche la Fiorini Pesaro Rugby che domenica alle 14.30 ospita i Romani dell'Unione Rugby Capitolina una partita che potrete rivedere su Rossini TV la prossima settimana e dopo due trasferte torna sul proprio campo anche la Megabox ondulati del Savio Vallefoglia che al Palacarneroli di Urbino ospiterà domenica alle 17 la Delta Despar Trentino e con l'annuncio del weekend sportivo si conclude questo nostro telegiornale in questo venerdì 5 novembre prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata di oggi dedicata alle premiazioni del 74esimo GAD il Festival Nazionale d'Arte Drammatica che domenica ha svolto la sua cerimonia di premiazione al Teatro Sperimentale rivedremo premiazione e premiati questa sera alle 21.20 e ancora ve l'abbiamo già annunciato durante il TG We Pesaro TV nuovo format che parte domani sabato 6 novembre alle 13.30 un format in collaborazione col comune di Pesaro per vedere tutte le iniziative portate avanti dall'amministrazione appuntamento domani alle 13.30 e poi le repliche che vedete in grafica domenica lunedì e martedì e l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7.20 con la rassegna stampa del sabato buongiorno Rossini per l'occasione sarà condotta lo vedete in grafica da Antonio Astuti e vi ricordiamo anche un importante programma di Rossini TV pronto a ripartire dopo il successo della scorsa stagione eccola la seconda edizione di Casa Rossini con il nostro Paolo Pagnini e il suo salotto di ospiti cambia l'orario non più al mattino ma vedete in grafica la programmazione dal lunedì al venerdì prima edizione alle 19 prima replica alle 23 e poi il giorno seguente alle 10 e alle 15 e 15 è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale a me non resta che augurarvi un buon weekend e una buona continuazione di serata con i programmi di Rossini TV a me non resta